Le sono vivamente grato, Signor Presidente, per le gentili espressioni di benvenuto che ella mi ha rivolto a nome del Governo e degli abitanti dell'Armenia e per avermi offerto la possibilità, grazie al suo Cortese invito, di contraccambiare la visita da lei compiuta l'anno scorso in Vaticano, quando presenziò alla solenne celebrazione della Basilica di San Pietro, insieme a loro santità, caro Kim II, Patriarca Supremo e Cattolicos de tutti gli Armeni, e Aram I, Cattolicos de la Grande Casa de Cilizia, e Sua Beatitudine Nerses Vedros XIX, Patriarca de Cilizia delle Armeni, recentemente scomparso. In quella occasione si è fatta memoria del centenario del Mez Jerem, il Grande Male, che colpì il vostro popolo e causò la morte di un'enorme moltitudine di persone. Quella tragedia, quel genocidio, inaugurò purtroppo il triste elenco delle mani catastrofi del secolo scorso, resse possibili da avverranti motivazioni razziali, ideologiche o religiose, che otteneranno la mente dei carnefici fino al punto di prefigere l'intento di annientare interi popoli.